Gatto o coniglio, gatto, fresco, ora, bianco o verde, bianco, wow, ora, coda di pommi o coda di drago, naturalmente pommi, wow, ora, orecchie di pommi o orecchie di gatto, orecchie di pommi, è buono, ora, pommi occhi o occhi che piangono, Pommi, wow, ho gli occhi di pommi, sono così bello, capelli castani o colorati, colorati, wow, fresco, ora, questa catena o catena di gatto, preferisco il gatto, fresco, ora, mano pommi o mano presidente, pommi mani, wow, sto iniziando ad avere un bell'aspetto, ora, faccia normale o faccia da matto, penso pazza, Indossa il vestito, è ora di diventare un gatto, non c'è modo Popcut pommi gatto sta morendo di fame per nutrirlo e per farlo sopravvivere devi valutare i loro jump scares Ok, facciamolo, prima tu Hai la mia testa, ora la vasca da bagno Ok, Gangol ha preso una C e il manichino prende B, ora dors La mia testa, ti do la C, ora Kaofmo La mia testa, ti do B, il prossimo è il grasso Kain D, il peggiore, ora Kain si è bloccato Andai a C, ora Jack si è bloccato Lasciati ti porti in C, il prossimo, Gangol normale Il mio era B, ora è Agatha Sono traumatizzato, vai a B, ora Kinger Non male, C, ora Pommi Le mie ossa, lascia che ti porti in A, ora Zuboli Vai in A, ora Kaofmo Beached Uno dei più spaventosi, A, ora tu Out Vai a C, ora Luna Ok, I love you Per me era B, e ora Sole Vai a B Ok, tutti sono classificati Gatto Pommi è da metà pastura Per nutrirla completamente valuta queste persone Sì Oh mio Dio Vediamo Il primo è Pigster Peppa e George si sono fusi, ecco come è stata creata Oh bello, abbiamo Peppa e George qui Entrare? N-O No Oh mio Dio, così grande Non è colpa tua, è la più grande di Jammo Josh Ah, sono più alto di te Non dire così E ora cosa? Lasciami in pace Mai per le parole che hai detto Il giocatore pensava che Pig volesse ucciderlo ma lei si sentiva innamorata di lui Oh no, vuoi uccidermi? Per favore, non dire che lo vuoi fare Per favore No mai, ti amo Anch'io ti amo Aveva un jumpscare schifoso Fammi vedere È stato davvero disgustoso e cattivo Mangiava i bambini dell'uccia all'opila Ecco perché era diventata grassa È ora di mangiare qualche pollo Bene Cattivo Hai mangiato quelle dolci galline Quando le si dai peluche di Peppa Pig smette di inseguirti Wow Pigster è così potente Attacco Oddio Andiamo Ha litigato con il gatto con gli stivali perché odia i gatti Odio i gatti Anch'io ti odio Maiale per me è brutto che tu abbia ucciso il dolce gatto Yo È arrivata al gioco ufficiale del maialino e ha mangiato il maialino Ehi pigi dove sei Nessuno ha più paura di te Sei un vecchio gioco dai video di Creakcraft Cosa hai detto? Mi dispiace ma sei fuori Era piccolo ma il dottore l'ha rubato alla mamma e lo ha trasformato in grande Wow 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 Pensavi che ti sentissi? A seta Chi sta chiamando? Fratello Lascia che ti cambi Entra dentro Controlliamo i risultati Non è colpa tua Quindi per me è una buona azione Era super amichevole ma i giocatori gli sparavano proiettili dritti all'occhio Fammi spararlo Sono amichevole Smettiti Sei stato trattato così male È triste È uscito dalla trappola e ha cominciato a distruggere Brookhaven Non uscirà mai Come? Si è innamorato della ragazza di Big Fiddles ma il dottore l'ha uccisa perché lo stava distraendo Amore Sì Mai Nu Ora sarete più concentrati sui jumpscare Ha spaventato il mondo intero e ha distrutto la terra con questo È ora di distruggere il mondo Per me sei una persona cattiva Il prossimo Fratello Sei brutto Era una squadra silenziosa a scuola Il mio nome è Silent Steve e sono Emo È stato morso dal verme Viola Smettetela di fare bullismo con me Per favore Ahnubemo Oh sono così cattivo in tutto Fermi Cosa? Ti sei vendicato su di loro quindi non è male Hai iniziato a trasformarsi in Silent Stave e a spaventare tutti i bulli Ci sono troppi bulli devo aggiornarmi Forza Sì Facile Snake eri davvero un bravo ragazzo Vieni qui Il prossimo sei tu Sì sono io Prima di trasformarsi in mostro stava cercando di risolvere l'omicidio di Skibididop Oh my god Chi ha ucciso Skibid? Questo è il mistero che risolverò L'assassino ha ucciso tutte le persone che amava perché voleva che smettesse di imbagare Uno di voi ha ucciso Skibid Aspettate Aspettate Chi ha fatto questo? Se hai visto chi ha fatto questo metti mi piace e iscriviti e avrai fortuna per il prossimo giorno Ha trovato l'assassino ed entrambi sono caduti in piscina tossica e mutati Torna indietro ora Mai Ti imprigionerò Sei un buon scef per me Vieni Tutti loro sono stati valutati È tempo per il mio aggiornamento Wow sono Pigster LVL1 Valutiamo di più Perché ogni valutazione è uguale nuovo aggiornamento Creatore di Garden of Bambam prima Prima di creare il Garden of Bambam ha valutato tutti i loro jumpscares ed erano spaventosi Oggi valuterò tutti i vostri jumpscares Primo uccello opila Fa paura ma è molto lento quindi non si arriva al secondo capitolo Faccio un po' di cacca jumpscare Il prossimo è Pigster Wow questo urlo è stato fantastico Devo dire che è stato grande grande ma non il migliore Il prossimo è Big Fiddles Era medio ma non peggiore Ok la prossima Bambalena Era spaventoso Devo dire che Devo dire che è stato grande Ma non è ancora il migliore Il prossimo Jumbo Buono ma non il migliore Prossimo Ho sentito dei suoni strani Quindi è stato molto brutto Ora Joe è il puzzolente È stato spaventoso Quindi vi do il massimo Il prossimo è Selina e Lumaca Ti sto dando il cattivo Il prossimo Davvero brutto Non era nemmeno spaventoso Nab Nab il prossimo Sì 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 perfetto Il migliore Te l'ho dato Prossimo Buon jumpscare E l'ultimo Cattivo Morire Sei stato così cattivo con loro Il fratello Per far funzionare il suo piano Ha creato delle sculture di Darten of Bambani Le ha vendute Lasciatevi fare sculture Fatto Oddio Conosceva le voci e i volti reali Dei personaggi di Darten of Bambam Non c'è modo di mostrarmi per favore Sei solo un insetto per chi ci vive Sbrigati salta dentro Ho bisogno di raccontarti una storia E così ci ritroviamo Questa volta non scapperai da me Io vedo tutto Sento tutto Wow conosco le loro voci grazie a te Ha bruciato tutti i personaggi di Darten of Bambam Ah è ora di bruciarvi tutti N O No per favore No per favore Non farlo Ah troppo tardi Sei cattivo per me Mi sento aggiornato Wow il prossimo Guardava le persone quando attraversavano il giardino di Bambam Ma una volta si è spostato Amo questo posto Un me aspetta Ha litigato con un imboscata per averlo copiato Wow 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 Perché mi hai copiato? Ha trovato una ragazza e hanno avuto dei figli troppo grandi Ha diventato un uomo grasso e ha cominciato a diventare più grande della terra Sono il più grande della terra Oh my god Zolfius sei un uomo buono Vieni qui Aggiornamento Bello Il prossimo Tutti quelli che lo vedevano pensavano che fosse il ragno Ragno Spruzzarlo Muori muori Non è colpa tua Quindi bravo Quando l'hanno messo sotto il piatto Ha scavato un buco ed è saltato su di loro Ragno sotto questo piatto O così vicino Ok penso che sia ora di togliere il piatto Cosa? Ha scavato un buco oddio Wow 300 IQ Il suo salto è spaventoso Tutti erano spaventati Buono Correva sui muri come l'uomo ragno e combatteva con lui Per me sei bravo Il prossimo La sua nascita è stata molto divertente Penso che sia il momento Wow sto per uscire come nuova forma di vita Blu o rosa Blu Un occhio o tanti Uno Bello Faccia fissa o faccia normale Normale Un dente o dente normale Un dente Essere un numero o una lettera Un numero Si è riprodotto un milione di volte nell'RP di Brookhaven Il mio esercito è pronto Ha creato F e T per combattere l'uno contro l'altro ma F ha vinto La prossima brava persona Lo adoro Indovinate un po' chi non va in prigione stasera Krik sei il prossimo Ha schedato tutti gli hacker su Roblox Si è rasato a zero Ho rispetto per il fatto che tu l'abbia fatto per il meme Ha detto di iscriversi a Popcat È stato molto tempo fa Ma grazie Krik Vieni qui Mi sento aggiornato Si è tempo di valutare un altro Primo Scipididop È rimasto incastrato nello scivolo e cento persone sono scivolate dopo di lui Tempo di scivolare No Ha fatto slittare il mio turno Ha creato il suo parco giochi solo per le persone grasse Questo parco giochi è solo per persone grasse Sono brava Si Che dire di me Ha aperto un ristorante dove lo chef del poliziotto Barry scucinava e il cibo era delenato Il giorno dopo nel mio ristorante Dammi il cibo Di più Qui Buono Di più Qui Uccinava persone magre Cattivo Successivo Era un piccolo pesce nero ma il dottore lo trasformò in uno squalo palustre Mangiava tutti in un sol boccone Il suo jumpscare era disgustosamente spaventoso Mostrami Stifoso È stato brutto Successivo Bambalina Studente vittima di bullismo in classe Bambini disegnatemi Facile Buono Evviva Il mio turno Buono Lascia che te lo disegni Che cos'è questo? Cattivo Aspetta Mi dispiace Ho troppo potere Non disegnerò mai più niente PopCat cosa hai fatto? Ho bisogno di disegnare Fatto È la tua fine PopCat Oddio cosa è appena successo? Se ho dei superpoteri come posso fare soldi? What is that? Guidare attraverso quei dossi per un milione di dollari Oh my god Prima io Ah perdenti Il mio turno Posso provare? Ah si ma perderai Devo disegnare una macchina Fatto Wow Sta volando Aspetta come? Facile Questa è impossibile Ho bisogno di una nuova macchina Ah Andiamo Oh mio dio Ce l'ho fatta Ultimo Oh mio dio What the hell Oh mio dio No way Ce l'ho fatta Non posso credere a quello che è successo ma ecco il tuo premio Sono ricco Sono ricco ma ne ho bisogno di più Chi salterà più lontano vincerà l'intera terra Oddio è questa la mia macchina? Sono il primo Bel salto Il mio turno Che bel salto I mean it's alright like Tocca a me Per denti Buon salto Tempo per me Noob Oh my god Arriverò Arriverò alla mia Lambo Arriverò alla mia Lambo Salto intermedio Ora è tempo per il bagno Aspetta È troppo lento Lasciate che ne disegni una nuova Fatto Fatto Wow Oddio Quasi la fine Congratulazioni Hai vinto la terra Andiamo La polizia Lui sta imbrogliando Catturatelo Devo disegnare una macchina Fatto Wow Devo disegnare Disegnare di nuovo Fatto Ok è ora di distruggerli Wow ha funzionato Capo cosa devo fare? Saltami addosso Grazie ora devo nascondermi perché ce ne sono altri Oh no Cosa dovrei disegnare dopo Boom Pokat aiutami Stanno distruggendo la mia fabbrica Oddio Disegnerò personaggi personalizzati Non ti preoccupare Fatto Wow Ora penserò a qualcosa di strano Fratello Che bello Sta qui Prossimo Ah incredibile Ultimi due Oddio Prossimo Fatto Wow Ok attacco Grazie mille Popcat Nessun problema Ma ora sei in arresto Mi dispiace Cosa? Si fermi Si fermi lì Incredibile sono in prigione Disegnerò la fuga Bello Ume Ume ciao Sto valutando da ora Ha perso la testa e ha bisogno di qualcuno che ne disegni una nuova Lo farò io Bello Tutti i suoi amici sono morti e ne voleva di nuovi Tutti i miei amici sono morti Aiutami per favore Disegniamo Fatto Evviva Prossimo Stavano facendo il bullo con il giocatore e lui voleva l'ultra crucifisso per reagire Mi sta maltrattando per favore disegna un crucifisso Non c'è da preoccuparsi Grazie 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 Tutto l'uomo Il prossimo è Zolfius Si è trasformato in piccolo e voleva diventare più grande per tornare in gioco Ok Fammi provare Fatto Grazie Voleva essere più grande della terra Oh Sarà difficile Ma ce la farò Ok ce l'ho fatta Bene Ha rubato l'autobus con i bambini di randy friends È brutto Quindi ciao ciao Facile Ok il prossimo È stato picchiato dai bulli e voleva denti e rossa nuove per spaventare la gente Disegniamo Fatto Wow questo è così fido Ha mangiato i bambini dell'uccello opila ma poi se ne è pentito I bambini restano qui per un momento Oh Dei bambini Una buona cena Aspetta non mi sento così bene Perché ci hai mangiato Ehi se vuoi ottenere robux per i prossimi 10 giorni metti a mi piace e iscriviti ora Noi Ha cambiato il suo gioco in porte e stava inseguendo le persone con il tazzo Noi Smettila di inseguire le persone Fratello Il prossimo Aveva bisogno di nuovi personaggi per il suo terzo capitolo Noi Sai disegnare i personaggi? sì ho un'idea perfetto il prossimo fatto o no fa schifo ma lo amo aspetta a prendere il vestito grazie il prossimo fatto forse l'ultimo oh my god disgustoso che cosa hai detto il prossimo voleva valutare ogni jump scare di ognuno da garten di bambam oggi valuterò tutti i vostri jump scares prima hai ora tu buono prossimo ora tu a cattivo non fa paura il prossimo è lo squalo spaventoso ora scream eugen l'ultimo buono wow è stato impressionante il prossimo morto voleva mostrare ogni faccia di ogni giardino personalizzato di bambam mostrerò la tua faccia nella vita reale no e me sei metà cattivo e metà buono va libero prossimo aveva tre fratelli che avevano fatto le loro case il lupo cattivo stava cercando di distruggerle e io farò una buona cena dobbiamo nasconderci nelle nostre case perché sta arrivando farò saltare in aria le loro case buono ora tu sono troppo debole finalmente l'ultimo non funziona è troppo forte sei sopravvissuto è bello voleva essere più magro perché la gente lo prendeva in giro lo farò wow grazie voleva una moglie e dei figli ok ti disegnerò una moglie e dei figli siete dei bellissimi bambini ah bello lo chef gli ha rubato i figli e ci ha fatto gli hamburger quindi li vuole indietro cibo piacevole torna indietro cuciniamoli non sotto i miei occhi per me sei una persona perfetta ok il prossimo è così puzzolente che quando scorreggia c'è un allarme tossico credo che le tue scorreggi siano così cattive sei sicuro sto per morire mangia la cacca e poi fa la cacca più grande del mondo oh cos'è questo lo mangerò buono oh aspetta devo andare in bagno buono è ora di lavarsi le mani che diavolo il prossimo è così disgustoso che fa la pipì sul gabinetto chiuso è ora di fare pipì fatto ha bisogno di sapone per punirsi perché tutti stanno morendo per il suo odore lascia che lo disegni fatto e per me fai solo schifo ma sei una brava persona prossimo aveva una cotta per baldi e voleva che lui si innamorasse di lei per favore baciami sei così intelligente che dovremmo stare insieme ok prossimo volevano avere dei figli ultra intelligenti ok fammi disegnare fatto sei così intelligente stava dando la caccia alle persone e le uccideva e qualcuno doveva fermarla wow wow mi dispiace volevo baciarti aspetta non sono bambalena hai sbagliato persona abbiamo bisogno di bambalena cosa sta succedendo è la mia casa devo andarci oddio cosa sta succedendo qui bambalena bevi questo a no mai dammi quello no ora esploderò oddio cosa è successo qui perché tutti sono bambalena questa persona ci ha cambiato e ora devi scoprire quale bambalena è reale bamban quale pensi sia la tua ragazza questo posso sentirlo non credo quindi abbiamo ancora 10 bambalenas ora dobbiamo controllare le vostre voci prima bambalena wow bellissima prossimo e ricordati che le risposte sbagliate saranno punite molto duramente ok non sospetto prossimo ciao dove ti stai nascondendo per favore fa male sono forte um non suona esattamente come bambalena ma va bene prossimo ascolta se riesci a sentire quello che sto dicendo fai un cenno a qualsiasi telecamera cosa voce maschile sei un sospetto prossimo quindi ci incontriamo di nuovo dove sono i miei figli prossimo sto venendo in questo posto e poi mi viene ricordato che tutto per cui sto lottando vale tutto lo spazio e la sofferenza sospetto prossimo prossimo mi ha portato in bagno questo era strano prossimo piacere di conoscerti un penso che tu sia malato prossimo sei stato uno studente cattivo bene ultimi due cosa ok questo è opila ma l'ultimo ok questo sembra normale quindi tu stai uscendo avevo ragione sono rimaste solo nove bambalena quindi ora devo controllare i vostri spaventi numero uno ok bene prossimo non male sembra reale ok questa persona era sospetta prima attaccami dove pensi di andare? wow era come bambalenas non sei più un sospetto prossimo ahia la mia testa era reale prossimo ora tu cosa era quello? non è bambalena fai di nuovo il secondo era reale prossimo la mia testa ma era uno spavento molto sospetto prossimo di nuovo oh fratello perché hai lo spavento di nab nab? perché il dottore ha cambiato il mio cervello sospetto prossimo un me spavento incredibile mi piace sei reale prossimo cosa era quello? lo spavento di fiddles sospetto prossimo tu lo sai ahia perché lo spavento di bambam? oh ho appena cliccato il pulsante sbagliato era ancora bambam stai venendo eliminato ah era bambam ops ok prossima categoria disegnati ora ok fatto non sono bravo a disegnare facile non un bel disegno prossimo non il migliore ma ok prossimo wow prossimo wow buono prossimo brutto sei un sospetto prossimo hum perché c'è un Stinger Flynn cosa? hum e nulla strano prossimo buono buono wow hai dipinto un modello 3D e l'ultimo hum sceriffo che diavolo mi dispiace ma stai venendo eliminato ciao ciao ah avevo ragione non ne restano molti prossimo devi disegnare la tua cotta facile mostrami ohio bambam prossimo bene ok prossimo cosa? figo prossimo bambino ma bambam quindi ok prossimo bambam malvagio bene questa è la mia cotta aspetta cosa è questo? hum e e tu? ragazzi siete sospetti da ora ma ora bambalena era molto forte quindi colpisce questo muro non è il migliore prossimo quello blu bambalena era molto meglio prossimo quello rosso lasciami pensare meglio del precedente viola e arancione perché questo? viola molto bene ma arancione questo è brutto no 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 ne restano tre facciamolo dai siete al sicuro ragazzi mi dispiace fratello ma sei falso per favore no stinger flin quindi ne restano solo sette ok quindi ora ho una domanda quando jumbo josh ti ha colpito e afferrato dove sei andato? la risposta corretta è nella stanza su andate je ne suis pas dué pour des saints hum siamo andati a un appuntamento stavamo bevendo caffè per favore lasciami in pace wow mi chiedo dove l'ha portata sembra reale ok quindi ora tu lo stesso data ok lasciami pensare mi ha portato per l'operazione e voleva cambiarmi ah è ora di cambiarti ah perfetto un strano ok tu mi ha portato a hume in prigione cosa? non credo sia corretto ok tu data prossimo mi ha portato fuori per un appuntamento ok tu mi ha portato in bagno cosa? metti like e iscriviti o Bambalena sarà nel tuo bagno fratello sei un sospetto e l'ultimo si ok non riesco ancora a scegliere chi uccidere quindi ora Bambalena era molto veloce benvenuti al torneo finale siete pronti? si si wow è così veloce prossimo e prossimo e prossimo ok vediamo chi ha vinto bravo sei stato veloce e aspetta perché ne manca uno? mio dio mi dispiace ma devo ucciderti ciao lumaca seline Bambalena era intelligente quindi ora risolvi questo quesito vieni una mela più una mela equivale a? due mele hai ragione bene prossimo pomodoro più acqua equivale a? zuppa di pomodoro hai ragione sei legittimo prossimo aereo meno carburante per auto equivale a boom wow sei così intelligente prossimo è così facile è zuppa di pomodoro è zuppa di pomodoro no cosa? assassino più coltello equivale a morto non sei Bambalena ciao Zolfius non bene ma abbiamo solo 5 Bambalene rimaste ok quindi disegnati e poi diventa quello tu per primo fatto wow sembra Bambalena ok quindi ora per il prossimo facile fratello aspetta cosa è questo? sei un sospetto ok dopo un sospetto il prossimo andiamo Bambalena più Nabnab molto strano ma ok ora tu cosa è questo? Zolfius più Bambalena prossimo facciamolo cosa è questo? fratello stai ricevendo una spilletta di sospetto quindi ora bevi questa pozione e vedremo la tua forma mutata mostrerà chi è reale e chi no vado per primo potresti essere Bambalena ok quindi il prossimo questa pozione l'ha eliminata? fratello ok quindi il prossimo grande prossimo mio dio questo è sospetto hai il corpo di Nabnab quindi il prossimo questo è falso è Raccoch Peacles mi dispiace ok quindi abbiamo solo 4 Bambalene ok quindi ora ragazzi voglio vedere cosa avete fatto nella vostra vita cominciando con il primo lei era super forte perché sei così forte? ah sono sempre stato così ok questo era corretto Bambalena è forte prossimo la radiografia mostra che all'interno del costume di Bambalena ci sono due persone ok ora vediamo cosa c'è dentro di te cosa? due persone ok questo è sospetto due persone sono in pigster lei ha ucciso Bambam perché era con Nabnablena ok Bambalena potrebbe essere gelosa di Bambam è corretto lei era innamorata di pigster aspetta tutto questo mi dice che sei un pigster avevo ragione ah ne restano solo 3 lei è stata morsa da Bambam e poi ha perso la mano è vero e corretto prossimo lei era ultra intelligente e ha risolto un milione di problemi matematici questo è il problema matematico più difficile del mondo 2 più 2 4 mio dio sono così intelligente sei intelligente come Bambalena era molto lenta come una lumaca era come una lumaca quando camminava mostrami come cammini mio dio è la cosa di lumaca selene strano prossimo lei puzzava bella cena Bambalena non mi sento così bene oddio cosa mio dio è come Stinky Joel aveva un sacco di peli sul corpo ed era disgustoso che diavolo strano aveva una grande pancia perché amava mangiare fratello stava spaventando i nerd siete tutti nerd odio i nerd attacco ok prossimo lei era la cotta di tutti anche di Adam di Lenkybox si è vero tutti amavano Bambalena aveva dei bambini con Bambam mostrameli wow sono dolci è stata colpita da Jammo Josh tutte le cose qui sono corrette ma ora passiamo alla prossima categoria ora devi costruire la tua statua il migliore equivale a vincere ti sto chiudendo e aspettando i risultati 5 ore dopo ok vediamo i risultati ok vediamo i risultati wow um non male prossimo cosa è questo non è Bambalena mi dispiace sospetto e l'ultimo wow 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 perfetto mi dispiace ma stai uscendo dalla competizione Zambo Josh mio dio ok quindi sono due Bambalene rimaste vediamo cosa hai fatto lei attaccava le persone ma queste schivavano il suo attacco sembrava un ragno con un sacco di denti è anche il ruolo di NubNub fratello era un maschio aspetta Bambalena è una femmina non un maschio ok sai cosa sei falso impossibile NubNub ok quindi questa è la vera Bambalena iai si finalmente mi hai trovato qualcuno ha ucciso Bambalena e anche qualcuno ha ucciso NubNub guarda fino alla fine perché troveremo l'assassino chi è l'assassino? aspetta mettili giù prima Bambam vedo i tuoi denti su di lei oh my god mi ha fatto arrabbiare perché era sempre migliore yeah uh huh la 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 hai il mio braccio oh mio dio mi dispiace mani in alto sei arrestato quindi l'hai uccisa ho solo morso la sua mano ma quando ho scappato dalla polizia ho iniziato a rapinare e sono finito in prigione impossibile che sia in prigione ma aspetta o no abbiamo la stessa cella ah finalmente posso vendicarmi mio dio quindi l'hai uccisa il caso è chiuso no aspetta ho ucciso un poliziotto per salvarla ah sei chiuso qui dentro no mio dio mi hai salvato bacio mio dio quindi vi siete innamorati alla fine si ok passiamo al prossimo fatta un uro stavo giocando con bambalena e nabla oh mio dio è stato così cattivo ma poi si è vendicato su di me e bambalena spero che nessuno mi spaventi di colpo amico fammi uscire ok quindi nabla l'ha solo spaventata di colpo ma aspetta cos'è questo il naso di coach piccol no mi stavano prendendo in giro dove sei? ah cos'è questo? il mio naso lascia che lo tagli per te no no oh mio dio cosa è successo dopo? mi sono vendicato su di loro ehi cane mi puoi dare il tuo naso? lasciate che lo faccia io per voi grazie ora di vendicarsi amo il mio nuovo naso ehi è la tua fine ora è il turno di bambalena ok vedo bambalena ehi dammi il tuo naso ok grazie ehi bambalena muori ehi 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 brother no 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 ah quindi hai ucciso nabla e bambalena non lo prometto impossibile figlio di bamban l'hai ucciso tu? non sono stato io lo prometto ho invitato bambalena al mio concerto ma nab nab non piaceva l'idea ehi bambalena ho fatto qualcosa per te cosa? cosa sta pensando? lei è la mia cotta quindi cosa è successo dopo? mi sono vendicato ok nab nab sei pronto per sentirmi cantare? vai ah tempo di riposarsi quindi l'hai ucciso caso chiuso no impossibile chi lo ha fatto? aspetta c'è una siringa strumento del dottore penso che il rosso potrebbe ucciderlo non ero io cercavo di farli mutare ora di farti mutare mangia questo ah no 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 ah ora tocca a te no no ha funzionato ah e ora è il momento di unirvi mua perfetto sapevi che avrebbe potuto ucciderli? si ma non è successo mio dio l'umaca selina è il tuo muco li hai uccisi no in quel momento stavo inseguendo persone nella vita reale noi abbiamo fatto una biga da rilassi? mettiamo mi piace e iscriviti prima dello spavento per avere fortuna per 24 ore cosa stava facendo stava schivando meme lol ok ma dimmi cosa sai di bambalena e nab nab mi ha buttato in piscina mio dio ti hanno buttato in piscina prima che foste mostri di nuovo aspetta a dell'alfabeto hai ucciso bambalena e nab nab ero un peluche normale ma lei sedeva sempre su di me tempo di sedersi un'ora dopo ho aggiunto delle spine su di me si pentirà di essersi seduta su di me tempo di sedersi due ore dopo ora aggiungerò dei cubi puzzolenti a bambalena ceniamo insieme ok prendi posto sarà la cena migliore sto rompendo con te aspetta cosa cinque ore dopo ultimo scherzo aggiungerò della tnt a a o voglio dormire ho avuto una brutta giornata aspetta agrer è troppo hai distrutto la mia vita vieni qui cosa è successo dopo ti ha eliminato si mi ha ucciso in cento modi diversi ti faceva male si aspetta qualcosa sta dando i numeri amanda l'hai fatto tu ho visto bambalena e nab nab guidare una macchina e mi hanno investito tempo di guidare la mia nuova auto ferma 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 l'hai uccisa no lei è sopravvissuta solo con una botta in testa capisco amanda anche lei è morta aspetta vedo un coltello coltello dello sceriffo ehi tu l'hai fatto stavo solo togliendo le loro maschere sono lo sceriffo e toglierò tutte le vostre maschere per vedere i vostri volt prima bambalena amico altre maschere amico mio dio altre maschere ehi torna qui amico cosa ok prima la fata cosa justin pensavo avessi paura della fata ok la famiglia di zolfius wally amanda ora il puzzolente joel per favore no sono brutto ah cacca fiddles sono bello vediamo ah skibby young ok dopo nipples adam di lenkybox amico impossibile ora per questo ragazzo del capitolo 4 per favore non fatelo ho dei figli e sono brutta dentro lo farò a flamingo wow pazzesco prossimo nab nab sono la persona più brutta del pianeta non fatelo vedere non dirlo nessuno è brutto mio dio così carina prossimo jambo m chi sei ok prossimo luma casseline please don't do it cause 1 m average lo farò genna ok abbiamo controllato molti di loro ora questo ragazzo da un nuovo capitolo vediamo il tuo volto bello prossimo bambam vediamo no per favore no cosa cric ti amo john viola vediamo no per favore smettetela subito nonno di squid game prossimo esqualo da isho speed prossimo pigster 4 kailus prossimo allenatore pickles mister beast wow e ora tutti aspettavamo nab nab e bambalena mio dio wow ok quindi non li hai eliminati qualcuno ha sparato allo sceriffo a perché l'hai fatto hai ucciso nab nab e bambalena odiavo nab nab perché mi entrava nell'occhio per favore esci dal mio occhio e odiavo bambalena perché mi rubava i bambini 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 state qui e giocate a chi chiude per ultimo l'occhio ok tempo di rubare dei bambini i miei bambini mio dio quindi cosa è successo dopo così un giorno volevo dargli una lezione mi hai tradito quindi ora ti insegneremo una lezione per favore no spavento aspetta sono morti aspetta cosa sic no aspetta vedo qualcuno ehi fermati qui ero innamorato di bambalena sposerai bambalena si bambalena lo sposerai si aspetta no lui l'ha rubata ora baciami per sposarmi per sempre no per favore no per favore no ma è no perché lo hai eliminato perché chiedi ti stavo salvando ma è justin stavamo scherzando con te no mio fratello quindi hai ucciso il falso nab nab sei un sospetto a opia perché era zolfius non io hai inciso bambalena facevo colazione con il ketchup il mio cibo no no gli hai mangiati tutti ero sazio cosa sentito uno sparo cosa amico rosso pensavo fossi morto dimmi cosa hai fatto stavo cercando di uccidere bambalena e nab nab e ho fatto una competizione per gli spaventi tempo di uccidere il giardino di bamban siete tutti a metà partita facciamolo chi ha vinto allora nessuno non sappiamo ancora chi ha fatto aspetta cosa stai facendo mio dio pigste quindi hai fatto tutto tu pensavo che avessi fermato il caso ero solo affamato ok stai andando in prigione quindi devi infrangere tutte queste regole per diventare più realistico ok prima di tutto niente persone basse venite ragazzi controlla la tua altezza siamo bravi non imbrogliare perdente posso entrare o m sì per un bacio fratelli blu venite qua aggiornamento wow siamo più realisti e la prossima regola è niente in fisi con chi dovremmo litigare se ci sono bambini qui da l'ho aiuto aspetta vedo qualcuno no 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 conosco il ragazzo che ti ha cambiato oh mi dispiace fratello ai tu e punch perché hai fatto questo oh no mi dispiace ma la regola è stata in santa aggiornamento wow sembriamo più realisti e la prossima regola è non andare via giocattoli ok ho preso queste tre scatole da l'ho aiuto qua non preoccuparti lo ucciderò non sono bravo a scalare mi dispiace regola infranta siamo più forti quindi la prossima regola è niente scavare è il momento di scavare boom cosa è questo porte ok ragazzi non le temo battene ho paura aggiornamento wow prossimo niente rubare e uccidere ehi già posso comprare questa chiave si 100 robux gratis oh grazie cosa? corri ora niente uccisioni ehi uomo con la motosega vieni e uccidimi chi è questo? fermati fratelli dacci l'evoluzione wow prossimo niente cacca di cane treni e apertura di porte cane vieni qui puoi fare la cacca davvero? si vieni uome è troppo non lo pulirò cane corri cucciolotto no lascia che lo faccia per te no cucciolo prenderò vendetta niente regola sui treni uscite prossimo niente aprire le porte oh no non posso farlo sono bloccate nessuno avrà le chiavi ha mangiato le chiavi no aspetta c'è una regola che non puoi essere piccolo ora sono piccolo wow chiavi vieni con me è il momento di aprire le porte umegger sono stati in fronte 4 regole aggiornamento uome tutto ok prossimo niente guardare la tv ok accendiamo E lo spettacolo è inquietante. Sono veri. Qualcuno aiutami. Farò un sacrificio. Salto di paura. Regola in franta. Aggiornamento. Niente ordini dal Dark Web. Ok, penso che la mia consegna sia qui. Questo è per te, ciao. Lasciatemi aprire. Un me, una bambola. Eliminare. Mi hai tagliato l'orecchio. Ehi, fermati. Oh mio Dio, questa bambola è pazza. Wow, sembro più umano. Prossimo, niente entrare nel parco giochi alle 3 di notte. Sono le 3 del mattino e voglio dormire ma... Guarda il parco giochi, sta bugando. Ci entro. Ora non c'è regola di compleanno. Oh, opia. È il mio compleanno. Mi hai tagliato l'orecchio. Hold up. Wait a minute. Regalo brutto. Il mio turno. Cosa è questo? Ho un regalo fantastico per te. Non mi piacciono i gatti. Mangio i gatti. Opila, il mio regalo è speciale. Wow, amico turco. Gole infrante. Aggiornamento di me e opila. La prossima regola è no macchine nel parco giochi. Ok, ho una macchina. Siediti nella mia. Ok. Taxi. Cosa hai fatto? Lasciami in pace. Per favore ragazzi, non voglio morire. Ma aspetta. La prossima regola è no gatti. Ho uno qui. Vieni. Ehi, fermati. Combatti con me. Ah, fratellino. Un po' è rotto. È ora di un aggiornamento. La prossima regola è no lasciare i bambini nel parco giochi. Ok, lascerò questo bambino qui. Chi è questo? Sono Megan. E questa è la tua fine. What? Non sono abbastanza alto. È la tua fine. La prossima regola è niente pittura. Veloce. Ha fatto. Che cosa? Ciao. Ok, la prossima. Niente magrezza. Questa è la persona più magra al mondo. Proviamo ad entrare. Ehi, ehi. Controlla il tuo peso. Ok, una sterlina. Non puoi entrare. Lo farò. Ora salto. La prossima regola è non nuoto nella piscina con i cubi. Ecco. Aspetta. Cosa è questo? La prossima. Niente fuoco e ghiaccio nel parco giochi. Re del ghiaccio e re del fuoco sai cosa fare? Sì, sì. Ah, niente cacca nel parco giochi. Come posso fare questo? Posso prendere in prestito questo? Sì. Grazie. Fratello disgustoso. La prossima regola è niente tolking tom. Ma bene. Quest'app è così stupida. La butterò via. Oh me. Perché mi hai lanciato? Ora è ora di un aggiornamento. Wow, siamo così qui. La prossima regola è niente glitch nel parco giochi. Posso aiutarti. Ok. Kaopibib. Ok. Ehi, fermati. Next. Niente di queste noci sul parco giochi. These nuts. Ok, sono pronto. Cosa? Fermati, fermati, fermati. Ah, regola in franca. La prossima. Niente clonazione. L'ho fatto. Lascia che usi la mia mano di Tenoz. Fatto. Wow, ancora. Ah, sì. E ora? Lancia razzi. L'ultima regola. Niente eliminazione del parco giochi. Josh, sai cosa fa questo? Lo lancerò. No, non qui. Oggi vedrò le vostre facce nella vita reale. Cominciamo con Pigster. Niente da fare. Fratelli, mostratemi come siete diventati Pigster. Ci piaceva cucinare. OMG, ok. Fammi vedere il prossimo. Nappad. Mario? Sì, mi hanno cambiato. OMG, storia triste. Controlliamo Jumbo Josh. Che diamine? Lasciate che vi mostri la mia storia. O-M-G, eri un lottatore prima? Pazzo. Ok, la prossima lumaca seline. Cosa? Afmau? Lasciate che vi mostri come mio fratello sia diventato una lumaca selina. Che diavolo? Non è possibile. Questo è pazzesco. Il prossimo è Opila. Cosa? Spezia di ghiaccio. OMG, come facevi a saperlo. Bello. Il prossimo è Coach Picos. Vediamo. OMG, ora Zolfius. Wow. Faccia realistica? Vediamo. Ditini. Cosa? Genna, ok, è l'ultimo Canguro, ah, tagliamo la testa Per favore non fatelo Fermate Ehi, no Mostrami la tua faccia ora Per vedere la mia faccia valutate prima tutti i loro jumpscares Vi prometto che la mia faccia vi sconvolgerà Ok, Popcat fallo per me Lasciate che lo faccia io per voi Controlliamo prima jumpscare, basket Non era nemmeno spaventoso Quindi ti sto dando la cacca Bye bye Bambino opila Ah, ti eliminerò Beh, il bambino opila è un grande nudo Cacca jumpscare Ora i fratelli opila Ok, per me è stato molto meglio Puoi restare Ok, il prossimo, mini fiddles OMG baby fiddles diventa mid OMG, i prossimi sono baby fiddles Gli sto dando bene Il prossimo Sceriffo Lasciate che vi jumpscare Non c'è modo di farlo Lo sceriffo va al buono Buon fratello Il prossimo Nabna Avvicinarsi Un me ok Gli darò il buono Ok, voglio vedere se Nabna Blenna ha lo stesso spaventoso jumpscare del suo ragazzo Andiamo Ohio Nabna Blenna diventa mid Ok, la prossima è opila ed è molto spaventosa È tempo di ucciderti F Opila a metà Fratello Il prossimo è Bambalena Wow Bambalena andaria bene Ora è il momento di Bambam Vieni qui Gli sto dando un mid Ok, il prossimo Snalseline Mostrami La lumaca sta diventando brava Ok, dopo un ottimo jumpscare da parte di Snalseline è il momento di farli kangaroo Ho paura Fata vai alla grande Tempo per jumbo ma guarda cosa c'è dopo Facciamolo Ai è stato molto buono Classico Jumbo Josh buono Tempo per i grandi Fiddles nella prima forma Um Tempo di attacco Metà Ok, passiamo al prossimo Grande Fiddles Seconda forma Per te mid Ok, andiamo per il prossimo Grande Zolfius Sei sicuro? Morirai per questo jumpscare Si, sono sicuro Muma Cacca molto grande per Zolfius Quindi ora è il momento di non perdente OMG Andare sotto di me per ottenere il mio jumpscare Ok, sono spaventato OMG Bene per Stinger Flynn E allora del Coach Pickles Fratello Era molto spaventoso Ok, sei pronto? No Non spaventoso Coach Pickles cattivo Carlino un pilastro Carlino un pilastro medio Ok, è stato spaventoso Ma è ora di mangiare le tagliatelle È stato spaventoso Diventa bravo È l'ora del maialino Ti diamo un po' di bene Tempo per Stevie il silenzioso Sei pronto? Non era nemmeno spaventoso Sei cattivo Tempo per il poliziotto Barry e sua moglie Vieni qui Ti sto dando la metà Prossimo Persona spaventosa Ti bacerò Sei buono Tempo per Shark Lee È la tua fine Ti mettiamo in mezzo Tempo per i canguri Vieni qui Fratello Ti meriti il male Tempo per Screech Le porte sono vincenti Sempre Ti sto dando un buon Il ragazzo dei broccoli del video di Ugi Waki Ultra mega super spaventoso Il tuo posto è in buona Quindi ora goblin time Aspetta cosa? Questo è spaventoso Vieni qui Si ottiene mid Ok È il momento del cacciatore Steve Sono spaventato Vieni qui Ti sto dando il mid Tempo per la figura Attaccami Come in un secondo per ottenere un miliardo di Robux Ti meriti il meglio Ok questo ragazzo di Garden of Bam Bam Ti meriti il meglio Tempo per Amanda Fammi vedere Stai andando bene Quindi il prossimo Oh no Bob Vieni qui Sei a metà strada OMG fratello Tempo per questo ragazzo Vieni qui Stai andando bene Tempo per il prossimo Nab Nab mutato Sei in mid Ok e ora Um Vediamo Questo è l'Ohio Ti mettiamo al centro Tempo per il prossimo ragazzo OMG Thomas X Ti sto dando il meglio Nindy ora Fratello di Pigster Ti meriti la metà Tempo per alzarsi e vedere Jumpy Joshua Mostrami Sei diventato bravo Fratello Era spaventoso Ma ora questo ragazzo Andai a metà strada E ora No Sarebbe troppo spaventoso No Chi meriti il meglio Ok e ora Amanda Jump Sky Tu sei a metà Il prossimo Uccello opila reincarnato Ti diamo il meglio OMG OMG il prossimo è viola Non c'è modo Lascia che ti tocchi con un dito Ti becchi il mid Tempo per Bambalena OMG ho paura Ha un aspetto spaventoso No Ti sto dando un buon Tempo per l'amico giallo Sei a metà strada Ora amico rosso Sei messo male Ok Il prossimo è questo strano tipo OMG Sono dentro di lui Ti farò Jumpshire Cosa? Sono verde per colpa tua Sei cattivo Il prossimo insetto Il tuo posto è a metà Tempo di PB Sei pronto? Sì Sono un glitch No Ti sto dando un buon Prossimo Cos'è questo? Cane dei cartoni animati o cosa? Vieni qui Sei a metà Tempo per un gatto a cartoni animati Vieni qui gatto Ti meriti il bene Il prossimo blu Ti meriti il bene Tempo per il verde Ok Jumbo ora tocca a te Mostrami qualcosa E' stato spaventoso Stai andando bene Ok Ora è il momento del ragazzo rosa Il tuo posto è a metà strada Ok amico arancione Sei pronto? E' la tua fine Ok Tipo di metà L'ho visto troppe volte Ti mettiamo al posto giusto Ora è il momento di Zolfo Tretessere Ti sto dando il bene Ok prossimo Che cos'è questo? Aaaaaah Questo è stato spaventoso Ti meriti il meglio Ora è il momento della A Dell'alfabeto loretico Vieni qui Sei bravo Ok il prossimo Bambola del gioco del calamaro Ti prendi la metà Ok ora scheletro Il tuo posto è a metà Ok ora ciao vicino Ho paura perché ha un aspetto strano Tu prendi bene Ok ora nibbler Attaccami nu E' stato spaventoso Sei stato bravo Prossimo gioco divertente jump scare Aaaaaah Iiii Il tuo posto è in mezzo Ok è il prossimo Cosa? Stibi No Lasciami in pace Ti meriti il male Il prossimo Oh no Mister fan Tu ti meriti il bene Sei pronto per me? Si Il prossimo è bitch OMG Ti guardo in faccia Sei bravo Il prossimo Johnny Cool Kid OMG Stai andando a metà Ora stinger flimma mutato Bei denti Sei bravo Ora ciachi la bambola Aaaaaah Ha un coltello Prendi la metà Tempo per il signor bestia Vieni qui per un piccolo bacio Ti fai male Ok La prossima cosa da fare è Sei a metà Tempo per Baldi Ti sto dando il bene E ora flupa Siamo entrambi i gatti Ti meriti la metà Ora nab nab tre teste Il tuo posto è in buona Ok Il prossimo Treno jambo Vieni Ti sto dando una buona Ora mangia treni Vediamo Sei a metà strada Ok Il prossimo è panda Hai fa male Sei a metà Ok Il prossimo è Bowser Fammi vedere cosa sai fare Pesche, pesche, ti amo OMG Bella canzone Ti mettiamo in buona posizione Il prossimo è Lemon Ti diamo il mid Ora mostro dal terzo capitolo di Darten of Bambam Vediamo Stai andando in mid Il prossimo è Spongebob X Fammi vedere cosa sai fare OMG La mia testa Ti meriti il bene Ora mangiatini Vieni Il tuo posto è a metà Vicino a Freddy, Sheikah e Monty Avanti Naturalmente voi tre meritate il meglio Ok Il prossimo è l'uomo della finestra OMG Sembra inquietante Ti farò jumpscare a... Oh my god Tu prendi la metà Il prossimo è Kissimissi Tu sei a metà Prossimo Giraffa dal capitolo 4 Attacco Fa male Mettiamoci in cattiva posizione Ok La prossima bambola Poppy Ti sto dando il bene Ora Boxi Boo Andiamo Fa male Tu vai a metà strada Ora Ugi Per te c'è solo il meglio Gatto nelle scatte Wow è stato spaventoso e dolce Grazie Sei il migliore Il prossimo è Robine Il tuo posto è in buona Godzilla Hai ottenuto la metà Ok Il prossimo è Baby Gambe Lunghe Ti diamo il mid Prossimo Minion Non sapevo che i Minion uccidessero Ti danno un buon risultato Prossimo Siren Ti sto dando il bene Prossimo PD OMG Classico Non fa paura ma il tuo posto è il migliore Il prossimo è SCP Vieni qui Ti meriti il meglio Ikea Ti meriti il meglio Il prossimo è Sam Sei a metà strada E il prossimo è Daisy Ti diamo il bene OMG E il prossimo diventa rosso Ti meriti una cacca etica OMG non ne sono rimasti molti Mario Uomo Motosega Ti sto dando un buon Ciuffo Ciuffo Chance Si ottiene buono Nonna E per ultimo Peppa Sei bravo Finalmente li ho fatti tutti Quindi ora Kanguro Mostrami la tua faccia Ora Cosa? Era mio fratello Ogni garden di Bambanna è morto Jumbo Bambam Opila Praticamente tutti Non preoccupatevi ragazzi Troverò l'assassino Che diavolo? Metteteli giù Ora Prima Toilet Perché la tua immagine è accanto a quella del garden di Bambanna Non puoi conoscere la verità Grazie cameraman Nessun problema Ora Dimmi cosa è successo Le abbiamo impacchettati dei bagni Per favore Lasciami in pace En Ti abbiamo preso Tu l'hai fatto No Non sono stato io Papà aiutami Papà Oddio Cosa? Oh no Lui vuole prendermi Oddio Grazie ragazzi Ma ora Li hai uccisi tu? No Ho fatto guerra con loro Allora Li hai uccisi Il caso è chiuso Oddio Non ero io Sei accanto a lui Ok mi avete preso Li ho fatti schiantare Impossibile Sei stato tu Ma loro sono sopravvissuti Sì ma poi ho iniziato a cambiare Oddio Li hai cambiati Sì In mutanti Andrai in prigione No aspetta Ma loro mi hanno distrutto Ok questa volta hanno vinto Sì Quindi sai che non li ho uccisi Ma aspetta Cosa è questo? È niente Lascia che veda Mettiamolo qui Oh no Perché avevi tutte le loro morti registrate su VHS? Non ero io Chi? L'hai ucciso tu? No Prometto Il mio gioco stava morendo quindi volevo mostrare i loro volti Abbiamo tutto il cartel di VanBan qui Vediamo i vostri volti e la vostra storia Jester Cosa? La mia storia è triste Oh no Oh no Oddio è così triste Eri un clown prima Prossimo canguro fatato Oh my god Impossibile Una ragazza Oddio Ok questa era bella Prossimo Oh no John Dream Hi Ok prossimo Oddio Alto Victor Elon Musk Cosa? Questo è Elon Musk Il nostro canale Il nostro canale Molto bella la storia, o no? Il prossimo è Hunter Team. Vediamo. Cosa? Nicado Avocado. Wow, è una storia bellissima. Ok, ora Nibbler. Vediamo Flim Flam. Sei una brava persona Flim Flam. Rispetto. Prossima Miss Luna. Vediamo la tua storia. Che diavolo, eri carina. Vediamo il tuo volto dopo qualche anno. Oddio, quindi prossimo. Ora è il turno del mio preferito, Tamataki. Oddio, non questo. Pochi istanti dopo. Pochi istanti dopo. Uomo, così sei diventato reale. Vediamo il tuo volto ora. E il secondo. DJ Khaled. Davvero. Il prossimo è Stinger. Vediamo. Era triste. Ora il volto. Gigashad. Ok, è il prossimo Silent Steve. Wow, ti hanno ucciso. Ora il volto. Non hai un volto? Ok, è tutto. Siete tutti distrutti. Allora li hai uccisi? No, ho solo mostrato il loro volto. Cosa sta succedendo? Verrete tutti interrogati. Aspetta PopCut. Il ragazzo che li ha eliminati aveva questa voce. Ascoltala. Ok, li ascolterò. Non questo. Non è questo. Davvero? Ancora non è questo. Prossimo. Nonno. Cos'era? Che diavolo? Era. Non tu. Non sei tu. Ok, l'ultimo. Si lo abbiamo preso. Sei tu? Poliziotto. Li hai uccisi tu? No, l'ho colpito accidentalmente. Jambo aiutami per favore. Non puoi scappare ora. Sparare. È sopravvissuto dopo questo? Sì, sono sicuro. Che diavolo? Cosa sta facendo qui? Metti mi piace e iscriviti prima dello spavento per avere fortuna per dieci giorni. Chi sei e li hai uccisi tu? Sono la ragazza dell'orologio alternativo. E sono stata proprio nella loro casa. Ragazzi, qualcuno è in casa nostra. Ragazzi, dobbiamo correre. Il caso è chiuso. Li hai uccisi tu. È morta. Ma chi è questo? Johnprop sei stato tu? No, io li stavo creando tutti. Ragazzi, tutti voi sarete trasformati nei miei mostri. Wow, sono il prossimo. Wow. Sono il prossimo. Turno di NabNab. Wow, ho un corpo NabNab. Cappello da festa. Sono pronto. Sono il prossimo. Bello. Bello. Io sono il prossimo. Siete tutti pronti. Aspetta, chi è questo? È ora di trasformarvi tutti in bagni. Prima tu. No. Ora il resto. Il mio esercito è pronto. Ah. Se non li hai uccisi tu allora chi? Oh no. Oh no. Chi è questo? Oddio. Oh scusa, ho preso il tetto sbagliato. Aspetta. Hai ucciso il gaten di Bambam? No, ma ci provo sempre. Gli hai uccisi tu? Ho provato come hai potuto vedere ma mi hanno distrutto. Allora se non sei stato tu allora. Justin, cosa stai facendo qui? Eravamo normali youtuber ma ci hanno spaventato e messo nei bagni. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go! Oh no. Ok, non hai fatto nulla. Bro, no. Perché l'hai ucciso? Stavo cercando le mie scarpe. Ok ma sai chi potrebbe averli uccisi? Sì certo, cameraman glicciato. Oddio era toilet ma mostrami ora il cameraman glicciato. Oddio, il cameraman glicciato ti ha tagliato la testa. Sì. Perché mi hai fatto uno spavento e li hai uccisi tu? No, te lo prometto, ho solo messo una telecamera spia a casa loro. Vai a spiarli. Va bene papà. Oddio quindi li hai sfruttati. Sono morti. Cosa sta succedendo? Mi ha tagliato il naso. Stai zitto. Oddio li hai uccisi, quindi hai ucciso il resto del garten di Bambam? Ho provato. Ok, penso che siano qui. Nessuno ci troverà. Sei sicuro? Cosa è questo? Che cos'è questo? Tagliamolo. Facile. O quindi hai cercato di ucciderli. Questo è male. Impossibile. Il prossimo è morto. Aspetta. Vedo qualcuno. Li hai uccisi tu? Non l'ho fatto. Avevo il mio esercito di villager. I villager hanno costruito la mia statua di toilette. Perfetto. Erobrine smetti. I villager non sono i tuoi lavoratori. Cosa hai detto? Attacco. Finalmente ti abbiamo preso. Mi dispiace. Andrai in prigione. In primo luogo. È nuovo uccello opila. Ciano. Occhi bianchi o rossi. Bianco. Naso grande o piccolo. Grande. Figo. Aliviola o aligialle. Aliviola. Agrifoglio. Punti o piume. Piume. Bello. Gambe di uccello o gambe umane. Uccello. OMG. Capelli viola o neri. Viola. Wow. Radioattivo o non. Radio. Il mio turno. Viola o rosa. Viola. Arrabbiato o felice. Felice. Occhi normali. Mani verdi o rosse. Verde o wow. Scarpe da ginnastica o scarpe da ginnastica. Pippo. Sorprendente. E infine. Oh mio Dio. Wow. Capello nero o capello di Babbo Natale. Nero. Wow. Denti sorriso o triste. Denti. Marrone. Wow. Sceriffo o caca. Sceriffo. Rana o caca. Rana 100%. Vernice marrone o viola. Vernice marrone. Oh my God. Viola o giallo. Viola. Bacchetta magica o intasatore. Bacchetta. Orecchie da gatto o non orecchie. Orecchie da gatto. OMG così carino. Corona o berreto. Corona. Wow. Naso viola o caca. Non. Occhi o occhiali. Occhi. Che diavolo. Corpo blu o corpo viola. Viola. OMG. E ultimo. Oh wow. Io sono l'ultimo. Tartaruga posteriore o borsa. Tartaruga. Wow. Più testa o una testa. Più. Faccia da lucertola o faccia da bambam. Faccia da lucertola. Bello. Coda rossa o coda verde. Coda verde. Lingua o denti. Lingua. Bru. Gambe normali o gambe verdi. Gambe verdi. OMG sono pronto. Ciao ai miei figli. Ciao papà. Ciao papà. Sceriffo voglio che valutiate tutti questi jumpscares. Va bene. Lo farò prima. Metà. Il prossimo. Bene. Il prossimo. Bello. Successivo. Bell jumpscare. Oh no. Bell jumpscare. Va bene. La prossima. Il prossimo. Sono stordito. Ai. Era a metà. Prossimo. Avanti. Prossimo. H.M. Prossimo. Giullare. Buono. Prossimo. Jump scare. Mi ha morso. Successivo. Era decente. Prossimo. Prossimo. Jump scare. La prossima persona. Molto buono. Wow wow. OMG morirò. La prossima persona. Incredibile jump scare. Uffur. Prossimo. E' stato doloroso. Sono quasi morto. Oh mio Dio. Ce l'ho fatta papà. Per me tu non sai come valutare, figliolo. Cosa? Oh mio Dio. Non sono stato io. Oh mio Dio, cosa? Devo trovare un vero sceriffo. Prima vediamo i tuoi jump scares. Prima tu. Va bene. Va bene il prossimo. Il tuo turno. Bene, tu ora. Bene, prossimo. Bello, prossimo. Buono, il tuo turno. Bene, il prossimo. Fresco, il prossimo. Va bene, ultimo tre. Prossimo. Ultima volta. Cosa? Questo è sospetto. Bambam. Ciao. 12 bambam rimasti. Ora sentiamo le vostre voci. Prima voi. Fooool. I need all your parts to give revenge on Bambam. Sei al sicuro. Il prossimo. Bella voce. Bene bello. Sospetto. 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 Buono. Successivo. Abbastanza suspetto. Sheriff Toaster wants to find the killer of Jumbo 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 Jumbo. Bene, successivo. È buono. Brava Sheriff Toaster. Killer Gargoyle-Bamba-Bam. Bella voce. Cosa? Non è la voce dello sceriffo. Figura. Mi dispiace. E ora di vedere le vostre vere facce. Prima tu. Sospetto. Il prossimo. OMG. Il prossimo. Sembra Tyler 1. Prossimo. Wow. Molto figo. Panda Naruto. Piacere di conoscerti. Prossimo. Due teste. Prossimo. OMG non ha la testa. Inquietante. Blu 2 dollari uomo G. Prossimo. Oh, questo è il tuo former presidente. Prossimo. Che diavolo. Lo sceriffo non è una ragazza. Non so come sono arrivato qui. Zitto. Dieci sceriffi rimasti. Per il prossimo compito disegnate voi stessi. Vediamo. Buono. Bello. Bene. Inquietante. Sospetto. Super sospetto. Bello. Wow. Sospetto. Che diavolo. Non sei lo sceriffo. Fata canguro. Per favore. Non. È ora di vedere le tue mutazioni. OMG. Il prossimo. Molto bene. La prossima. Buona mutazione. Successivo. OMG così bello. Successivo. Belle luci RGB. Prossimo. Sospetto ma bene. Prossimo. Sentiamo di nuovo le vostre voci. Nobody likes Queen Garden on Bambam. I'm the worst Bambam. Buono. Bello. Anche medio. Hey guys. Jumbo Josh here. I'm here with my Garnabamba. Sospetto. Molto sospetto. Buono. Buono. Strano ma bene. Questo è falso. Buffone. Ciao vecchio amico. Oh mio dio. Oggi è il mio compleanno. Prima. Prima c'è scossa. Pessimo regalo. Prossimo. Che cos'è questo? Cosa hai fatto? Mi dispiace. Prossimo. Che diavolo? Prossimo. Che diavolo? Molto sospetto. Mi dispiace. Prossimo. Perché sempre io? Prossimo. OMG distintivo da sceriffo. Grazie. Benvenuto. Prossimo. Bevi. Va bene. Oh no. Prossimo. Cosa? Sei falso. Aspetta. Nab Nab. Ora mostrami i filmati della tua vita reale dalle telecamere. Va bene. Bene. Prossimo. Questo è buono. Sospetto. Sospetto. Sei reale. Reale. E' difficile dire quale sia il falso. Vediamo ancora i tuoi jumpscares. Il primo. Vero. Prossimo. Anche vero. Non falso. Non falso. Prossimo. Va bene. Sospetto. Prossimo. Molto sospetto. Tu. Vero. Prossimo. Aspetta. Aspetta. Mostramelo di nuovo. Bene. Falso bambalena. Non. È ora di vedere cosa c'è dentro di te. Andiamo. Oddio. Quindi mi piaccia. Prossimo. Questo è sicuramente il vero sceriffo. Vediamo dopo. Cosa. Prossimo. Scossa di digno. Prossimo. Cos'è questo? Quindi è morto. Vediamo dopo. Che diavolo. Sospetto. L'ultimo. Cosa? Jumbo Josh. Super sospetto. Tu sei falso. Jumbo Josh. Lo sceriffo era forte. Quindi colpisci questo muro. Wow. Hai preso la metà. Buon pugno. Prossimo. Wow. Hai quasi preso tutti. Prossimo. Wow. Li hai presi tutti. Molto bravo. Prossimo. Ehi. Solo tre? Per il prossimo compito ascolterò le vostre spazio. Reurla. Non urlerò. Ok. Vero. Prossimo. Non. Lascialo cadere. Buono. Prossimo. Per favore. Non farlo. Prossimo. Prossimo. Non voglio. Ok. Nessun problema. OMG. Grazie. Scherzo. È difficile capire chi è falso. Dovrei vedere di nuovo i tuoi spaventi. Primo. Questo è buono. Prossimo. Prossimo. Vero. Ultimo. Falso al 100%. Aspetare. Ciao. Amico giallo. Per il prossimo compito disegnatevi. Scherifo femminile. Molto bravo. Buono. Bel disegno. Che diavolo. Sei sospeto. Ma non ti ucciderò ancora. Lo scherifo ha fatto un salto molto alto. La persona che salterà più in basso verrà eliminata. Sono il primo. Metà. Io il prossimo. Wow. Meglio dell'ultimo ragazzo. Buon salto. Io sono il prossimo. Oh my god. Oh non. Sono l'ultimo. Sei saltato più in basso. Quindi morirai. Solo tre rimasti. Mostratemi cosa fate. Fato. Vediamo. Sembra bene. Prossimo. Va bene. Prossimo. Guardate. Ma che diavolo? Sei falso. Va bene. Rimangono solo due sceriffi. Quindi mostratemi la vostra voce e lo spavento. Prima. E spavento. Wow. Prossimo. Falso. 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 Tamataki. Iai. Abbiamo trovato il vero sceriffo. Mi dispiace.